siamo quasi pronti pronti per la partenza giornata di tregua oggi per l'Apa che sta interessando un po' tutto il paese dal mercoledì però è prevista e poi quando siamo sul dritto a 400-500 metri di girio partiamo quando siamo in gruppo andiamo avanti per andare a vedere la croccia dei vignali devi dirmi bene quando prendiamo la tangenziale da che parte bisogna passare non l'ho conosco, non l'ho conosco, non l'ho conosco, ok andiamo a vedere, chiudere ragazzi, chiudere, chiudere avanti con la precorta, avanti dentro di seco dato qui fino a corsa tutto ok qui direttore Vigilio dammi le forze in posizioni perché siamo pronti ok allora dammi sempre una moto qua davanti a me per fare il primo giro così lo conosco bene anch'io è copiato Vigilio? è copiato è copiato è copiato è copiato allora primo giro tieni sempre una moto abbastanza vicino così guardo bene al giro anch'io perché non ho avuto tempo di farlo prima ok ok possiamo andare Vigilio possiamo andare ok partiamo è un tentativo di fuga tre atleti si sono staccati un po' dal gruppo tre atleti in fuga sin dal primo giro però il gruppo è lì un po' sfilato è un po' sfilato abbiamo la posizione dei rossi gioie e poi si vengono dietro per capo è un po' sfilato però è un po' sfilato